Qualche anno fa sono stata nominata esperta del settore maglieria per la scusura dei disciplinari del settore della moda in collaborazione con la Camera di Commercio. Questi disciplinari hanno consentito di determinare esattamente quali sono le caratteristiche che deve avere un'azienda dell'artigianato artistico del settore moda e nel mio caso in particolare della maglieria per arrivare ad un marchio artigiano in Liguria di proprietà della regione rilasciato dalle Camere di Commercio. Questo marchio ha consentito di farci accedere alla partecipazione di un bando per ottenere un finanziamento sull'acquisto di macchinari per la nostra attività. L'acquisto di macchinari avrebbero contribuito con un fondo perduto del 30% fino ad un massimo di 10.000 euro e noi abbiamo colto subito l'occasione, abbiamo acquistato un macchinario altamento tecnologico e siamo riusciti ad accedere facilmente per il tramite di un finanziamento artigian cassa a questo contributo. E questo ci ha permesso di continuare a perpetrare la nostra filosofia che è quella di produrre sul territorio, con il personale del territorio e di valorizzare questa attività artigiana che ne deriva da un'attività iniziata da mia mamma che ha fondato la prima di queste aziende e che ci consente di lavorare a questi giovani che amano ancora creare un manufatto, avere la soddisfazione di vedere le loro opere realizzarsi.